Parcheggio a pagamento e strisce blu. Da diversi giorni è questo l'argomento che tiene banco nell'opinione pubblica bicegliese. Dopo la ridistribuzione delle strisce blu ed il loro sensibile aumento nelle vie del centro, sono stati molti i cittadini a lamentarsi. Tra chi è critico nei confronti della vera e propria rivoluzione che ha investito la sosta a pagamento a biceglia, c'è il commercialista Giovanni Salerno, titolare di uno studio professionale su Via Aldomoro. Salerno ha recentemente intrapreso una raccolta firme per presentare all'amministrazione comunale una petizione popolare in cui si chiede di rivedere i criteri di gestione delle aree di parcheggio. Qual è lo scopo di questa petizione che lei ha lanciato e per cui sta raccogliendo le firme? Io ho un ufficio professionale in Via Aldomoro e sia io, i miei collaboratori, le persone che frequentano lo studio stanno avendo difficoltà nel poter venire tranquillamente in Via Aldomoro, parcheggiare e venire in ufficio per assolvere i loro impegni. Non trovano parcheggio, non trovano parcheggio a pagamento, non trovano parcheggi nelle vicinanze, quindi c'è essenzialmente una grossa difficoltà. Grossa difficoltà secondo me legata al fatto che non ci sono delle vere e proprie aree di parcheggio dove gli automobilisti possono andare, lasciare la propria macchina, magari anche custodita, e fare ciò che devono assolvere durante la loro giornata. Ma vengono utilizzate come aree di parcheggio quelle che sono le fasce longitudinali sulle strade vicino ai marciapiedi. Stalli che secondo me dovrebbero essere totalmente liberi, tutt'al più qualcuno lasciato essenzialmente ai diversamente abili. Invece si è fatto un uso abnorme delle fasce blu, fasce blu che vengono comunque utilizzate per mantenere una sosta continua durante tutta la giornata, quindi non c'è un ricambio di vetture, non sembrano assolvere al compito verso il commercio dove qualcuno arriva, trova il parcheggio, lascia, fa la compra e va via. No, la macchina rimane ferma essenzialmente per quasi tutta la giornata. Andrebbe ridiscusso un po' tutta la politica che è stata individuata per i parcheggi in questa zona, ma anche in tutta Biceglie, perché vedo un proliferare di strisce blu in quasi tutta la cittadina. Le fasce bianche sono rimaste pochissime. Ho avuto la sensazione come se il servizio non sia più un servizio pubblico, ma essenzialmente sia un'attività economica dove non si ricerca la soddisfazione del cittadino, ma essenzialmente la massimizzazione del profitto. Il professionista bicegliese ha poi esplicitato più nel dettaglio le richieste contenute nella sua petizione. La mia proposta è quasi provocatoria, io parlo di area di parcheggio, per ogni area di parcheggio chiedo che ci sia un parcheggio per i residenti, un parcheggio libero, un parcheggio per i disabili e infine un parcheggio blu a pagamento. Ma in realtà quello che desidero è che si riparli della situazione dei parcheggi a Biceglie e che si individuano delle aree specifiche per il parcheggio che devono andare a far crescere il numero degli stalli e non a sottrarre stalli liberi in funzione di quelli a pagamento. Per i cittadini interessati è possibile sottoscrivere la petizione recandosi muniti di carte d'identità all'ufficio di Giovanni Salerno in via Aldomoro 79, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 e 30 alle ore 20, da lunedì al venerdì.